Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 marzo 2023 per tutti i segni. Oggi è martedì e, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l'appuntamento quotidiano con l'oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi per i segni. Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Ariete. Cari Ariete, in amore guardate avanti e non rimuginate sempre sul passato. Per quanto riguarda il lavoro ci sono diverse buone notizie in arrivo anche nel nel pomeriggio potreste sentirvi un po' sottotono. Sarà senza dubbio una buona giornata per il tuo lavoro e per gli affari materiali, soprattutto per prendere iniziative e per fare ogni tipo di viaggio e colloquio. La settimana inizierà, ancora una volta, con uno stato d'animo chiaramente positivo e costruttivo, anche se allo stesso tempo con un bel po' di frenesia e attività, sia fisica che intellettuale. Sarà senza dubbio una buona giornata per il tuo lavoro e per gli affari materiali, soprattutto per prendere iniziative e per fare ogni tipo di viaggio e colloquio. Toro. Cari Toro, aprite il vostro cuore alla persona amata perché la Luna è nel vostro segno e vi permetterà di farlo nel migliore dei modi. Sul lavoro arriva una nuova fase piena di soddisfazioni. Sul lavoro non ti succederà nulla di male, ma forse la causa della tua introversione andrà ricercata nelle difficoltà familiari. Anche se tutto va bene o non ci sono motivi di preoccupazione, oggi sarai molto chiuso in te stesso, non avrai voglia di parlare con le persone e a volte ti lascerai trasportare da una certa malinconia. Sul lavoro non ti succederà nulla di male, ma forse la causa della tua introversione andrà ricercata nelle difficoltà familiari. Gemelli. Cari gemelli, sono tante le novità in amore e dovreste prendere tutto con molta più leggerezza. Sul lavoro è un momento un po' particolare e potrebbero esserci cambiamenti in arrivo. Attenzione solo alle spese di troppo. Sarà anche un momento di successo o risultati sul lavoro e altre questioni banali. Oggi avrete una giornata particolarmente ispirata o fortunata con i soldi e gli affari materiali, e in generale la settimana seguirà questo andamento, momento ideale per fare affari o speculare in borsa. Sarà anche un momento di successo o risultati sul lavoro e altre questioni banali. Cancro. Cari cancretti, è proprio un bel momento per l'amore questo quindi se siete single, apritevi ai nuovi incontri. Sul lavoro avete delle buone idee e con l'impegno arriverete lontano. D'ora in poi, ottime opportunità inizieranno ad arrivare in tutte le aree della tua vita, e molte volte inaspettatamente. Non temere, la fortuna sarà con te. Non lasciate che dubbi ed esitazioni vi paralizzino o vi portino a perdere magnifiche opportunità, sia lavorative che finanziarie, oltre che di natura personale. D'ora in poi, ottime opportunità inizieranno ad arrivare in tutte le aree della tua vita, e molte volte inaspettatamente. Non temere, la fortuna sarà con te. Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione. Leone. Cari leoncini, vi sentirete oggi frenetici e combattivi. Affronterete tutti i tipi di lotte e sfide, sia sul lavoro che in amore, prendendo sempre l'iniziativa e affrontando le difficoltà senza alcun timore, perché avrete l'aiuto e la protezione di persone importanti che vi amano e vi ammirano. Inizierai una settimana fruttuosa o fortunata, anche se qualcosa di più combattivo o frenetico della precedente. Affronterai tutti i tipi di lotte e sfide, prendendo sempre l'iniziativa e affrontando le difficoltà senza alcun timore, perché avrai l'aiuto e la protezione di persone importanti che ti amano e ti ammirano. Vergine. Cari Vergine, a inizio mese l'amore non è stato illuminato dalle stelle ma da oggi inizia una fase di recupero. Sul lavoro è un momento importante per affrontare al meglio le sfide. Vi andrà tutto bene e risolverete i problemi affrontandoli con mentalità bellicossa, come se fosse una battaglia. Ma c'è il rischio di tensioni con i tuoi intimi. Oggi ti aspetta uno di quei giorni di lotta e di difficoltà da superare in cui a volte ti sembrerà che il mondo sia contro di te. In realtà vi andrà tutto bene e risolverete i problemi affrontandoli con mentalità bellicossa, come se fosse una battaglia. Ma c'è il rischio di tensioni con i tuoi intimi. Bilancia. Cari Bilancia, continua il periodo di recupero per la sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro bisogna stare attenti ai progetti a lungo termine che potrebbero creare qualche problema e insoddisfazione. La fortuna entrerà nella tua vita in modi diversi, specialmente nelle questioni relative al lavoro e alle finanze. Possibile arrivo inaspettato di denaro in ritardo. Inizi una settimana di grandi sorprese, la stragrande maggioranza delle quali positive. Ciò che hai seminato, da una parte, il destino ti restituirà dall'altra. La fortuna entrerà nella tua vita in modi diversi, specialmente nelle questioni relative al lavoro e alle finanze. Possibile arrivo inaspettato di denaro in ritardo. Scorpione. Cari scorpioncini, non è il momento ideale per l'amore questo quindi abbiate un po' di pazienza e cercate di evitare i conflitti. Sul lavoro siete un po' confusi e siete come in attesa di una conferma che sembra non arrivare mai. Oggi devi stare molto attento se ti offrono la possibilità di partecipare a un'attività o qualsiasi altra opportunità che ti dia la sensazione che sia qualcosa di molto buono, in realtà potrebbe essere una truffa o qualcosa che all'inizio sembra andare bene ma poi finirà rovinosamente. Pensa prima di agire. Orroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Sagittario. Cari Sagittario, quella di oggi è una giornata molto bella per i sentimenti e i single possono incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro ci sarà modo di superare qualche problema nato di recente. La libertà e l'autonomia sono tra le cose più importanti per te, ma se vuoi che le cose vadano bene oggi, non potrai fare quello che vuoi. La libertà e l'autonomia sono tra le cose più importanti per te, ma se vuoi che le cose vadano bene oggi, non potrai fare quello che vuoi, ma dovrai seguire la strada che gli altri segnano per te, e che poti capiterà nel futuro lavorativo o anche nella tua vita sentimentale. Stai attento, alla fine andrà tutto bene. Capricorno. Cari Capricorno, l'amore andrà alla grande oggi e potrete recuperare il terreno perso di recente. Sul lavoro non siete del tutto convinti di quello che state facendo e potreste fare una scelta decisiva. Oggi avrai grandi sbalzi d'umore ed è molto importante che tu lo ricordi. I tuoi sforzi finiranno per dare i frutti che speri, stai seguendo la strada giusta, non preoccuparti se le cose sono un po' ritardate o se a volte hai la sensazione che le difficoltà ti prenderanno, perché niente di tutto questo sta andando a cadere. Oggi avrai grandi sbalzi d'umore ed è molto importante che tu lo ricordi. Acquario. Cari Acquario, il mese di marzo è l'ideale per discutere tematiche importanti in campo sentimentale. Sul lavoro è tempo di scelte, attenzione solo a qualche dubbio. Se devi affrontare una battuta d'arresto nel tuo lavoro, sai che le cose veramente importanti per te di solito non arrivano mai facilmente. È probabile che tu non inizi la settimana lavorativa con il piede giusto e devi mantenere la tua serenità se devi affrontare una battuta d'arresto nel tuo lavoro, sai che le cose veramente importanti per te di solito non arrivano mai facilmente. Forse la cosa più dolorosa è che potresti trovare qualche tradimento o qualcosa di simile. Pesci. Cari pesciolini, questo è il periodo ideale per fare progetti, soprattutto se siete in coppia e vi amate. Sul lavoro avete tanta voglia di fare, soprattutto le cose che vi piacciono, ma per ora c'è ancora qualche limite. Non preoccupatevi, però, perché presto arriverà la vostra rivincita. Questo sarà per te un giorno di amore, amicizia e solidarietà, sia da parte tua verso gli altri che dagli altri verso di te. Successi che ti arriveranno grazie all'aiuto dei tuoi cari, e allo stesso tempo aiuterai anche gli altri a ottenere ciò che vogliono. È una giornata favorevole, ma non dimenticare che la fortuna arriverà per la via del cuore. Il segno fortunato di oggi, 7 marzo. Quale sarà il segno fortunato di oggi, secondo Paolo Fox? Il segno più fortunato tra voi di oggi, 7 marzo 2023, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, è quello del cancro. È proprio un bel momento per l'amore questo quindi se siete single, aprite via i nuovi incontri. Sul lavoro avete delle buone idee e con l'impegno arriverete lontano. D'ora in poi, ottime opportunità inizieranno ad arrivare in tutte le aree della tua vita, e molte volte inaspettatamente. Non temere, la fortuna sarà con te. Grazie a tutti.